verso alessandria segnale verde verso arona il binario nuovo è domenica mattina siamo a marzo il segnale è ritornato giallo verso arona verso alessandria siamo a varallo pombia alla stazione sulla linea alessandria arona a varallo pombia nel territorio comunale passa anche la linea luino novara con la stazione ferroviaria di porto varallo pombia la stazione è domenica mattina siamo a marzo il binario nuovo il binario nuovo il binario il treno passeggeri prosegue la corsa in direzione a rona siamo a varallo pombia alla stazione ferroviaria sulla linea alessandria a rona percorsa sia da treni merci che da treni passeggeri a varallo pombia nel territorio comunale c'è anche la stazione di porto varallo pombia sulla linea luino novara chiusa al servizio viaggiatori da gennaio del 2014 è appena passato un treno regionale di trenitalia proveniente da novara e diretto ad arona fermata di varallo linea alessandria a rona il binario nuovo verso alessandria verso arona è domenica mattina siamo a marzo il binario nuovo è domenica mattina è appena transitato un treno regionale di trenitalia per arona è domenica mattina è domenica mattina il binario nuovo il binario nuovo verso arona verso alessandria verso varallo pombia centro paese la stazione la stazione Sì